Qui in redazione ci piace tantissimo il classico cinema noir americano, ma è un cinema che come ascolti non funziona, non funziona più, ci siamo rassegnati a vederci DVD a casa e a non poterlo programmare, ma ci possiamo rifare ogni tanto con film come Bound, Bound torbido inganno, questo è il titolo completo italiano, che è totalmente un noir, soltanto che è aggiornato al gusto della fine degli anni 90, sia come espressività, sia come stilizzazione, sia anche come franchezza sessuale e disponibilità a mostrare la violenza. Bound è un film d'esordio, ma un esordio di lusso, di due personaggi che hanno cambiato la storia del cinema americano, si chiamavano Andy e Larry Wachowski, oggi si chiamano Lily e Lana Wachowski, questa è tutta un'altra storia, ma sono gli autori di Matrix soprattutto, Matrix è un film che sono riusciti a farsi finanziare con 70 milioni di dollari che non sono bruscolini, grazie proprio al successo di Bound. Dicevamo che è un noir, ci sono non una ma due femme fatale, che sono interpretate da Jennifer Tilli e Gina Gershon, la Tilli è stata una delle principali sponsor di questo film ed è riuscita a aiutare i fratelli a metterlo sui binari. È stata lei a scegliere come protagonista maschile Joe Pantoliano, che era un caratterista che qui ha il suo primo ruolo da protagonista, l'abbiamo visto anche in Memento, l'abbiamo rivisto poi in un ruolo secondario anche appunto in Matrix, Bound è la storia di due ragazze che tra di loro sono amanti e che decidono di fregare la mafia, di rubare dei soldi alla mafia, cosa che cinematograficamente non è mai una gran buona idea, e appunto Joe Pantoliano è il mafioso a cui loro cercano di sottrare il solito pacco di dollari, ovviamente lui se ne accorge, succede tutto il contrario di tutto, una serie di colpi di scena che non vi sto a rivelare. È un film stilizzatissimo per il quale fu assunta dai fratelli per raccontare in modo credibile il rapporto saffico tra le due protagoniste, Susie Bright che è una femminista attivista americana per i diritti LGBT e che è stata la consulente sessuale delle scene di letto, scene che un po' imbarazzavano le attrici, si racconta che siano fatte tutte e due una bella tequila per rendere, diventare più credibili. È un film stilizzato, forte, veloce, molto divertente, molto avvincente, insomma è una bella consolazione per non poter far vedere i noir degli anni 40, perché il noir non muore mai e Bound lo dimostra.